signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e due settimane fa abbiamo introdotto il metodo di scrittura delle quest chiamato il metodo del dungeon essere sinceri dovremmo dire reintrodotto perché tutta questa serie un remake ma non stiamo a sottilizzare nello scorso video abbiamo parlato in generale del metodo visto quando utilizzarlo e perché utilizzarlo e al contrario quando non è il caso di applicarlo finito quel discorso in generale da questa settimana cominciamo a vedere i singoli elementi che vanno a comporre il metodo del dungeon cominciando da quello più frequente e dall'uso più variegato e come avete visto al titolo saranno le stanze cos'è una stanza all'interno del metodo del dungeon come si usa quante ce ne sono non perdiamo altro tempo lo vediamo nel video di questa settimana come ho già detto nell'originale di questo video apparentemente non sembra esserci la necessità di spiegare che cos'è una stanza tutti sanno che cos'è una stanza io sto girando questo video dentro una stanza voi state guardando questo video probabilmente dentro una stanza tranne quelli che guardano il video il lunedì mattina in macchina mentre vanno al lavoro condoglianze ma all'interno del metodo del dungeon il termine assume un significato particolare la stanza e il luogo all'interno del mondo immaginario di gioco in cui i personaggi sono chiamati a svolgere un incontro su che cosa sia esattamente un incontro ci torneremo più avanti per adesso diciamo che è il momento di gioco in cui i giocatori sono chiamati a muovere i loro personaggi per fargli fare qualcosa ovviamente se stiamo parlando del classico dungeon di endiesco la struttura sotterranea labirintica una stanza potrebbe essere effettivamente una vera e propria stanza una struttura chiusa con pareti e porti di ingresso e di uccita questo è il motivo per cui è stato scelto il nome stanza per indicare questo elemento del dungeon concettuale ma ovviamente potrebbe essere qualunque tipo di luogo o di situazione all'interno della vostra quest la stanza infatti non è tanto un posto fisico ma è il concetto di luogo in cui si svolge l'azione e che definisce i parametri in l'interno dei quali questa azione viene svolta a livello concettuale quando parliamo di stanza intendiamo proprio un ambiente di gioco che abbia delle caratteristiche definite che debbano essere introdotte ai giocatori per permettere loro di fare scelte significative con i loro personaggi cosa sia una scelta significativa l'abbiamo visto nel video la settimana scorsa ve lo lascio qua su se dovete andarlo recuperare non starò a ripetermi quali siano queste caratteristiche quanto estesa sia la stanza dipende però tutto dal tipo di scena che voi volete portare al tavolo come abbiamo detto nella sua forma più rudimentale la stanza è proprio un ambiente chiuso delineato che contiene vari elementi potrebbe essere il salone di una locanda in cui è scoppiata una rissa e quindi i personaggi dovranno saltare sui tavoli o ripararsi dietro di essi per avere un vantaggio tattico sui loro avversari come potrebbe essere la sala di controllo è un'astronave in cui i personaggi devono riuscire a rimettere in linea il computer centrale per avere la possibilità di sbloccare le porte e pressurizzare i corridoi in modo da poter proseguire nella loro esplorazione non necessariamente però la stanza deve avere un limite fisico con una qualche tipo di barriera quando i personaggi arrivano alle antiche rovine in mezzo al deserto non ci sarà un muro a separare le rovine dal deserto e non ci sarà nulla che impedisca ai personaggi di andare dentro e fuori a loro volontà ma la stanza delle rovine sarà appunto definita dal fatto che lì ci sono delle rovine su cui i giocatori possono applicare delle abilità mentre tutto intorno ci sarà il deserto vuoto e quindi lì e dove ci sarà qualcosa mentre fuori dalla stanza non c'è niente sarà proprio la presenza di elementi caratteristici a separare la stanza dal resto del mondo di gioco quali sono quindi questi elementi caratteristici possiamo dividerli in due macro categorie in base al modo in cui andranno a influenzare il racconto il primo tipo di elementi che definiscono una stanza e la vanno a differenziare dalle altre sono quelli che possono avere nel corso dell'azione un uso tattico questi sono tutti quegli elementi della scena all'interno del mondo di gioco che i giocatori tramite i loro personaggi possono andare a manipolare per fornirsi un qualche tipo di vantaggio o che al contrario sono di ostacolo e quindi dovranno essere contenuti e controllati in qualche modo l'interno di una caverna potrebbe avere delle stalagmiti dietro cui i personaggi possano andare a ripararsi dai colpi o nascondersi dai propri nemici e magari un fiume di lava che blocca il percorso e debba quindi essere superato utilizzando le abilità dei personaggi ovviamente questi elementi non si limitano solo a quelli che possono avere un uso realmente tattico cioè sfruttati in qualche modo in combattimento ma tutti gli elementi di gioco e possano essere in qualche modo manipolati dai personaggi giocanti ricadono all'interno di questa categoria ne parleremo più avanti un altro video però considerate che l'intera stanza potrebbe essere un unico rompicapo o dare accesso a particolari poteri particolari abilità in pratica comunque diciamo che per quanto riguarda il livello tattico la stanza è quel luogo all'interno al mondo di gioco in cui possano essere trovati determinati elementi e non altri e che quindi determinate azioni siano possibili solo in questa zona e non in un'altra l'altra categoria di elementi che possono essere utilizzati per separare una stanza dalle alte all'interno del mondo di gioco è quella degli elementi estetici quelli che hanno a che fare con le descrizioni e soprattutto le sensazioni che quel determinato ambiente deve trasmettere questi elementi hanno molto più a che fare con il modo in cui il master descrive l'ambiente di gioco che con quali siano effettivamente gli elementi manipolabili all'interno della stanza stessa e magari due stanze tatticamente molto simili se non identiche potrebbero avere degli elementi estetici totalmente diversi proprio perché il master vuole due outcome diversi dalla scena che si terrà all'interno la sala comune e la locanda in cui i giocatori possono usare i tavoli per darsi un vantaggio durante la rissa contro gli ubriachi avrà praticamente lo stesso impianto tattico della navata della chiesa sconsacrata in cui i giocatori possono usare le panche durante un combattimento contro un gruppo di zombie ma è molto più probabile che il master descriva la prima con toni molto più leggeri e allegri magari descrivendo controscene di clienti ubriachi che scappano e momenti e gag buffe tutte robe che potrebbero essere molto più a loro agio all'interno di un fagioli western per esempio mentre per la seconda tutti gli elementi verranno descritti in maniera molto più cupa e macabra per dare ai giocatori un senso di disagio ed angoscia nel combattimento contro i morti viventi proprio perché quella deve essere una scena orrorifica quindi la sua descrizione deve essere fatta in modo che i giocatori provino orrore nell'essere in quella stanza all'interno della vostra campagna potete utilizzare diversi elementi estetici per le stanze proprio per andare a influenzare il modo in cui quella determinata zona quel determinato insieme di stanze a secondo di cosa avete bisogno comunque il modo in cui quell'ambiente venga percepito dai giocatori e che lo differenzi da altri ambienti con cui i giocatori devono avere a che fare nel corso dell'avventura unendo assieme quelli che sono gli elementi tattici con quelli che sono gli elementi estetici se abbiamo fatto bene il nostro lavoro otterremo una stanza unica e particolare che è esattamente quello che serve per il tipo di scena che vogliamo portare al tavolo che darà le giuste sensazioni e i giusti strumenti ai giocatori per rendere interessante l'azione ai loro personaggi ovviamente però le stanze non sono l'unico elemento del metodo del dungeon e quindi tra un paio di settimane ritorneremo nella rubrica del fondamentale del dungeon per vedere come collegare le stanze assieme anche se immagino che un'idea già ce l'avete fino ad allora la parola sta a voi ditemi nella sezione dei commenti qui sotto come fate voi a organizzare le vostre stanze quali elementi utilizzati e quali sono le stanze più memorabili che avete tirato fuori come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo credo a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link del server il disco del gruppo i telegram dove metto io le notifiche manualmente si raduna anche il resto della community del canale e per il resto io sono il master car e noi ci vediamo nel prossimo video